Ciao, sono felicissima di annunciarvi che ad agosto prenderò parte ai concerti a Taormina con il maestro Andrea Bocelli. È una grandissima gioia, per me un onore, tornare in Sicilia. Come forse molti di voi già sapranno, il mio primo concerto con il maestro Bocelli si è tenuto proprio a Siracusa, nella magica atmosfera del teatro greco, nel 2011. È stato l'inizio di una bellissima amicizia, di una bellissima collaborazione che vive tutt'oggi e che mi riempie di gioia ad ogni occasione. Tornare alle origini è sempre una grande emozione, ecco perché lo scorso maggio sono voluta proprio tornare a visitare Siracusa, il teatro greco, ed è un viaggio che ognuno di noi dovrebbe sempre fare per mantenere vive le emozioni e la gratitudine di quanto la vita di bello ha da darci e diventa ancora più emozionante quando, come nel caso di Taormina ad agosto, potrò tornare appunto in una terra che amo molto, che è la Sicilia. Che bello, non vedo l'ora, quindi ci vediamo nel caldo sole di agosto e a presto. Ciao! Ciao!